Qualsiasi cosa stampata qualsiasi cosa stampata tende a ah no, questo qui ce lo racconta lui loro i responsabili di tutta la grafica di ultiverso la grafica è qualcosa di perfetto di impaginato anche con tutte le loro fantasie, trasgressioni eccetera, ma rispondono a una esigenza di assolutezza che viene assolutamente rispettata e il tipografo non c'è e questo ritmo che si sottrae, questa cosa che succede che io trovo sulle pagine gialle o sulle edizioni di poco conto, adesso non succede pochissimo, ma fino a una ventina di anni fa, 30 anni fa non era così insolito che una rivista avesse una pagina piegata nella quale succedeva che o la stampa si sottraeva oppure addirittura rimaneva soltanto questo lembo che andava a smarginare perché dipendeva dal tipografo e dal legatore il legatore si trovava questa roba qui tranciava qui e qui e questo lembo andava fuori per cui è questo caso che diventa il caso che per me è una roba meravigliosa che si come dire, si sovrappone al programma lo smentisce, lo nega e tu vai a chiedere al tipologo però io voglio dare un titolo a questo lavoro qua come si chiama? e mi dice non c'è e mi fa capire che sarebbe un'imprecazione perché il tipologo lo nega lo nega assolutamente e allora a questo punto uno diceva vabbè io lo chiamo extra pagina e tutti questi